Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Paura di vivere in casa propria è questa la terribile emozione con la quale è costretta a convivere ogni giorno Maria d'Argenio. In casa della signora che da 36 anni vive in un appartamento di Parco Castagno, si è infatti sfiorata la tragedia. A causa delle perenne infiltrazioni di acqua che hanno praticamente marcito i muri dell'abitazione, sono venuti giù dalle pareti i mobili della cucina. Nei mesi precedenti ha ceduto invece un cassone in legno che copre le tubazioni del bagno. Una situazione assurda che rispecchia fedelmente le condizioni di degrado in cui versa l'intero Parco Castagno, dentro e fuori dagli appartamenti. Adesso che sono andati i vigili, perché ho dovuto chiamare per forza pure i vigili del fuoco, mi hanno consigliato di non usare più la cucina e il bagno. Perché comunque non si può stare. È pericoloso perché ci sono i fili dell'energia elettrica, quindi può succedere. Ho dovuto staccare dove sta il forno, cappa, frigorifo, ho dovuto togliere la corrente perché giustamente con le infiltrazioni di acqua, voi sapete che poi che succede. Quindi, e poi pure per l'ingolumità nostra, ma perché vogliono aspettare che succede? Prima non guaio e poi si prende proprio di mente. Cioè, sono quattro anni che sta storia avanti, io non ce la faccio più. Devo uscire per vedere dove devo andare a cucinare e prendendo un bagno. È una cosa assurda proprio. Vengono una volta e dicono che la colonna mi è un fegato. E vengono una volta e dicono che la terrazza. E vengono una volta e dicono che il soggetto. Cioè, si può sapere sta perdita, infiltrazione e acqua, raddone e piene che mi ha rovinato. Cioè, mi ha rovinato in appartamento praticamente. Io mi rivolgo al sindaco, agli assessori, a tutti gli enti del comune. Se dovreste stare voi in queste condizioni ci sareste? Se per anno o per anno non viene fatta la manutenzione, mi dite voi che a caglioni qui si fa finire che il caso ci carino vuole.